In un mondo in cui la salute è la nostra priorità, Bio Basic Plus emerge come un alleato quotidiano per il tuo benessere ottimale. Un prodotto che non solo contribuisce alla tua salute generale, ma allo stesso tempo rafforza anche il tuo sistema immunitario. Bio Basic Plus è un nutraceutico potenziato con la nostra esclusiva tecnologia Regenesis MET, Molecular Imprinting Technology. Questa tecnologia unica biopotenzia tutti i principi attivi, rendendo Bio Basic Plus un prodotto senza pari. La specifica sinergia della vitamina C e della vitamina D in Bio Basic Plus contrasta l'azione nociva della proteina virale, coadiuvando nella prevenzione e protezione dalle conseguenze del Covid. Ma Bio Basic Plus non si ferma qui. Grazie agli estratti vegetali e principi attivi sapientemente selezionati e miscelati dal nostro staff scientifico, Bio Basic Plus regola la peristalsi intestinale, favorisce la detossificazione del fegato, dei reni e del tratto gastrointestinale. Promuove inoltre l'alcalinizzazione, l'antinvecchiamento cellulare, l'omeostasi ossea e il riequilibrio del microbiota. Per questo Bio Basic Plus è il tuo alleato quotidiano per una salute al top, un unico prodotto che ti protegge, ti rafforza e ti aiuta a vivere al massimo.